Siamo con due dei partecipanti della squadra di McDonald's a questa safety race, McDonald's anche sponsor ufficiale della gara, siamo con Lorenzo, Emilia, come è stato partecipare alla gara? È divertente, pensavo più faticoso forse perché non ho ottenuto il ritmo di altri miei colleghi che hanno corso molto più di me, però è bello, è stata una bella attività stare all'aperto, stare in compagnia di persone che magari vedi solo al lavoro e quindi non hai modo di parlare di chissà quali argomenti, è stato piacevole. E per te? Faticoso, io non sono una persona che si muove però dai per una giusta causa ci sta, poi ho passato dei tempi con i miei colleghi e quindi tutto bene, tutto bene. Io ho fatto amicizia con la signora Carla che ha detto essere la nonna di tutti, quindi un saluto alla signora Carla, mi ha offerto anche da bere al ristoro. Allora, ricordiamo che questa manifestazione ha un messaggio importante, la sicurezza sul lavoro. McDonald's, voi che appunto lavorate all'interno di McDonald's, come affronta questa tematica? All'interno del nostro locale quotidianamente abbiamo molte procedure, molti dispositivi per appunto la sicurezza sul luogo di lavoro, abbiamo fatto anche dei corsi apposta per appunto la sicurezza sul luogo di lavoro, è un tema che secondo me viene affrontato con molta serietà all'interno del nostro locale ma penso in tutti gli ambiti lavorativi. A maggior ragione se i lavoratori sono molto giovani, come a volte capita in McDonald's, quindi una grande attenzione in questo senso, vero? Assolutamente sì, assolutamente d'accordo. Grazie per la vostra testimonianza, siete stati gentilissimi. Grazie a voi. Buon proseguimento. Un saluto ancora alla signora Carla, ciao a tutta Vigevano. Viva carlasco ragazzi. Grazie. Grazie.